Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Landing of Isaac Afterbirth Plus Come usuale facciamo la daily Sperando che questo non ci porti a una prematura di partita Quello non ci interessa No Questo è abbastanza inovile Che cos'è la gara del suicidio assistito? Non ho mai visto questa stanza in vita mia la prima volta E lo farò Se sei stronzo Dentro l'anima proprio Perché una chiave? Ho raccolto una chiave, non me ne so accorto Sì L'anima proprio La generazione E' una chiave Che cos'è la chiave E' una chiave Se figo E' una chiave E' una chiave Basta far rivivere robe Addirittura 3 abbiamo rifatti rivivere Vabbè danno qua lo posso prendere Tanto a cuore c'è Ok Manca l'ultimo Vieni Vieni dal fratello tuo HP up Ora abbiamo una quantità di cuore Isorbitante Potevo andare a aprire L'altra cesta Una bomba ci starebbe Bene come primo oggetto No eh Vai ci ho provato Tu muori Bomba Bomba Ti odio tantissimo Gioco ti odio Eh Tanto prima o poi Beh conveniva a prenderli dopo a sto punto Vabbè speriamo che c'è una Una small rock Beh De aerofant Not bad Really Tu ci dai monete vero o batterie Non mi ricordo mai Bello il danno da un cuore Intero Batterie Ok Tu ci dai una chiave Esatto Quindi andremo a fare anche questa stanza E tu da dove sei uscito scusa Era incastratissimo Malissimo Ma c'è un oggetto figo Per una volta Ehm Allora Due item Room Su due Non ho preso l'oggetto Quello in realtà Ci ruba tutti i soldi E fa sì Che Noi abbiamo un punteggio di merda Ma ti pare che non prendo danno contro il boss E prendo danno contro Sto Deficiente Parole Parole Non ho parole HP App ancora Eh non mi interessa Ha troppi di patti con l'angelo Alla fine della fiera Dobbiamo arrivare da mamma Quindi arriveremo da mamma E chiuderemo la partita Punto Allora Non abbiamo consumabili E questo è un dato di fatto Abbiamo un danno che fa pietà Più o meno E non credo che cambierà Perché se una Se una cosa progettata Per arrivare da mamma È una sfida Quindi Ci prendiamo un po' di soldini In sostanza Era abbastanza triste Chiave Niente Cazzo Qua prenderò una quantità di danni imbarazzanti Già lo so Già me li vedo Proprio quei danni Belli Come metterci 42 minuti A fare una stanza Parte 1 C'è un boss E prenderemo danni da sti due Che andranno in giro Forse Meno di quanti pensassi Comincio ad odiare questo livello Tantissimo anche Una bomba Qualcosa Ma non sparano Cosa è successo? Cosa è successo? Una chiave Vediamo se la stanza Di oggetti È clemente Meno quello D7 Non veniva così Fare una stanza doppia Ma non quella stanza doppia Perché quello è terribile Grazie No veramente Sei un amico Porca troia Grazie davvero Niente Ci andrò lo shop Perché a sto punto Devo avere Una moneta in più Che partita De merda 600 minuti Per fare le stanze Cosa brutta Oh e da però Eh prima o poi Lo prendo il danno Questo passo Ma non ci penso mai Nella vita A rifare questa stanza Per puro caso Questa cosa È diventata rossa Perché è diventata rossa? Non era rossa Ne sono sicuro Ma che oggetti abbiamo? Niente di che 9 minuti A sto livello Santo cielo Sparate quei cosi Per favore Perché non sparano? Eh Uno sa il velenato Incredibile Mia 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 Fanculo No vabbè Tanto Già l'ho preso Danno no? Allora odiami Gioco di merda Queste sono le classiche Partite che vuoi morire Che proprio Non gliela puoi fare Tu vuoi Vuoi decedere Queste non ci sparano Secondo me È per quel cosa Muffito Quel tosto Muffito No Ho preso la chiave Torniamo ad aprire quello Sperando che ci sia qualcosa Cioè è una perdita di tempo unica Sto dire Infami Cioè ma perché? Ma dammi una cazzo di bomba No Infami Cioè è come se uno volesse Veramente Continuare questa partita In eternità All'eternità Per l'eternità Poh perfetto Con 3 di Danno Proprio La manna Non so neanche come ucciderle Queste L'unica speranza è che quelle Gli rimandi addosso Nada Splodi bene Super troll bomb E quanto sei stronzo Non t'ho visto Non t'ho visto No Ma mica lo batto io sto boss Ma zero nella vita Prove No Senti Rifamo andare a prendere quel oggetto Del cuore Credo che sia una cosa più Più onesta Di sto robo che oggettivamente Mi fa rifare stanze inutili Senza darmi in realtà Niente 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 Oggetti inutili Zero consumabili Ma che cazzo Stanza strana Tempismo 3-4 botte Lo tengo Come poi Quando sfasano troppo It's impossible Troppi colpi Pochi danni Sì Ciao 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 È stato bello È stato bellissimo Vivere con voi In questo tempo Cioè No Veramente Pietà proprio Prima devo ammazzastire un picazzo Assolutico Ok Ok Uno è andato L'altro deve seguire a brevissimo Perché altrimenti Non ne usciamo Forse qualcosa si riesce a fare adesso Una bomba Attenzione ragazzi Una bomba Quindi è così che è fatta una bomba Non spawnare Non spawnare Non spawnare Ma sai Finché spawni Sempre sullo stesso Ma va bene Ma porco cazzo Non ci penso proprio Un aumento di danno Serio No per sapere Quanto me poi sta sul cazzo Da uno a me sta sul cazzo Eh esatto Quello era il problema In realtà Prima di spawnare E poi i ragni Quando possibile Chiaramente Se poi caga Settemila ragni E mi intasano le stanze Ma Lucky foot Fondamentale Proprio in questa run Dove la fortuna è tutto Non è finito Fanno pure un danno intero Mesa le esplosioni Merda Come ne esco Così Non saprei come raggiungerlo Adesso Adesso come minimo Mi trovo grid Nel shop Tanti cari saluti Un roll Me lo sono garantito Questo lo pago uno Ma questo Lo pago sempre uguale Però mi prendo la chiave Così a buffo Doppio de hollow In tazza piccola Non ne usciremo mai Anche perché Questi mo' cominciano A spawnare Cacchi E te ce voglio Come si suol dire Infatti Pure Almeno Uno shot speed up Almeno quello Ci arrivo mica da mamma vivo Ho visto la spina Sono un coglione Merda Tante Tanti Morire Così Così esco Invece Non esco Perché io Questo mezzo Guardi lo volevo No Caccare No Eh no Ma abbracciami fortissimo Mi raccomando E' andato Quell'altro Merdone Che cagacacche Oh infami Grazie Oh veramente Dei danni frontali Proprio mi stai proteggendo Tantissimo Ti devo ringraziare Perché senza di te Proprio Non ne avrei saputo come Oh Almeno uno sparmò più Tre colpi Per una cacca No ragazzi E' la partita Più underpowered Che abbiamo visto Sono Non veloce Sono diversamente veloce Diversamente forte No Mi sto rompendo i coglioni Non avete capito Non avete capito quanto Merda Soldi Soldi Al momento no Non mi interessa Non mi interessa Oh no Grazie da Della scorrettezza Chissà Chissà se ne esco Chissà se ne esco Quanto sei Quanto sei stronzo Modem No Ma parco Cioè Almeno le puoi fare Tutti insieme Almeno A targa alterne C'è qui adesso Quanto sei ci compriamo tutto lo shop almeno se non muoio prima giusto mancavi tu hai bloccato il colpo a metà aria quando io l'avevo già schivato e me l'hai fatto colpire molto bene uno dei peggiori oggetti ever è piuttosto che c'è il riot world non so che promo ma io niente perchè hai fatto il giro così quale mente malata farebbe un giro così però è piuttosto che c'è il giro così rieccoci scusate l'interruzione era daveroso perchè il figlio reclama tu puoi morire darmi quello che devi quindi uno shot speed up quindi finalmente siamo al piano di mamma questo vediamo se è proprio necessario farlo guarda 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 creep va benissimo pulisco stanza pulisco stanza rifillo vita oh beh benvenuti e niente dobbiamo prendere danno se no non posso fare questo che poi alla fine che è cambiato e li abbiamo incontrati tutti perchè si è ferma ah perchè ok chiaro merda un po' tanti e tu sei un po' stronzo però è tutta roba difensiva broken modem non capisco perchè cazzo ci dà i premi doppi adesso che cosa ho preso di strano questo è il bello è che se li fate esplodere mentre sono sull'aere non spawnano but me ne stavo fottendo ma perchè ci dà i premi doppi cos'è che ho fatto di strano capisco ogobomb non l'ho preso merda vicinissimo qui ci dovrebbe dare una runa giusto? no beh praticamente questo non è che per caso in questo livello c'è la possibilità di scendere sta a venire dubbia perchè è il primo livello dove trovo qualcosa di utile esploriamo esploriamo cuori ce ne so in giro batterie anche forse no non c'è un we need to go di per o cazzate del genere strano poteva poteva genuinamente esserlo preso danno faccia bercano mi sta bene e avrei preferito altri ma se proprio non si vuole ciao andiamo giusto a veder di là per simpatia dopo di che niente posso giusto vedere se è qua la stanza super segreta giusto posso farlo non ci avevo mai pensato a sta roba che effettivamente è fattibile a sto punto il danno me lo prendo no non posso no non posso niente potrebbe essere qua la stanza super segreta totalmente inutile però vale comunque un colpo ce lo sta mi si era glitchata tantissimo la mamma mamma che fatica che merda 2000 poco male niente ragazzi per questa puntata è tutto spero che il video non vi abbia fatto schifo quanto ha fatto a me ci si becca nella prossima puntata ciao a tutti